Perfetto! Olio d'oliva. Stai facendo un ottimo lavoro. Basilico. Sei a metà. Funghi. Stai facendo un ottimo lavoro. Cipolle. Corretto! Ben fatto! Un po' di pizza. Questo lo dobbiamo grattare. Questo è da tagliare. Tagliamolo per bene. Stacca tutte le foglie. Benissimo! Gli ingredienti sono pronti. Sugo per la nostra pizza. Ora mischi al sugo. Evviva! Bene, l'impasto è pronto. Ora mischiamo tutto. Ora stendiamo l'impasto. Evviva! Inizia a sembrare proprio una pizza. È ora di condire la pizza. Fantastico! La pizza è quasi pronta. Ora inforniamo la pizza. Manca ancora poco. Sembra essere quello il posto. Troviamola a casa del nostro amico. Evviva! L'hai trovato! Veloce! Andiamo dal nostro amico. Fai attenzione! Fai attenzione! Un tronco in vista! Fai attenzione! Una bufera in vista! Fai attenzione! C'è un buco enorme! Dobbiamo costruire un ponte! Fai attenzione! Pigni è in vista! Evviva! Siamo arrivati! Mangiare ai nostri amici. Taglia la pizza a fette. Ora dai una fetta a tutti.